Doppio appuntamento! Doppietta oggi! Doppietta come Lautaro! Come Lautaro! Ma hanno detto, ma tu non lavori Bergomi? Che sei in banca! Eri in banca anche io! Cioè, ma che ora eravamo in banca? Alla 1 e un quarto! La gente va a mangiare e noi andiamo in banca! Ma anche io l'ho scritto nei commenti! Mi vengo da bestemmiare! Cioè, non è che siamo in banca le 10! Non è che eravamo sulla banca all'arguare? Il vero imprenditore lavora, non ha orari! 24 ore su 24! E vai in banca a 1.20! Mangia tra 1.20 e 2.25! Esatto! E dopo mezz'ora è qua! E certo! Io ho due uova al tegamino ingozzate e rialorare! E certo! Anch'io! E mal di testa fisso! E l'unico tempo che salta fuori è per fare il video! Per fare il video! Perché è fondamentale il video! Il video è il video! Il video è tutto! Ma il Milan? Punto di domanda! Allora, Pioli ha detto che ha sistemato tutto! Teore Nadez ha la casa sul lago! C'ha i cani come te la casa sul lago! Mande Pioli! Ma ha sistemato un cazzo! Deve ringraziare la difesa del Parma che l'ha fatto l'assista a Teore Nadez se no se la sognava di vincere! Io non lo so! Nonostante che magari rispetto prima è in lieve ripresa! Peggio di così! Peggio di così c'è la serie B! Voi siete... voi... noi mai state in B? E voi bastardi! Sì! Allora, riassunto! Ibra al Milan! Ho letto la notizia ma già la sapevo perché... Io sono contento se Ibra va al Milan! No ma va! Ma lo sapevo io! Sono contento che tanto non è più Ibra... Ma ti andiamo a Ibra? Ma Ibra è meglio di CR7... CRtette? Io ho due anni che non vedo più Ibra quindi come non so dire... Un conto di giocare nell'MLS e un conto nella serie A! Negli M&M's! Dai! Anche Beckham aveva giocato negli M&M's! Non fa il figo però Ibra ha rotto un po' il cazzo! Ibra ha rotto il cazzo! Oh Dill! Sì lo dico anche io! Astufato! Io l'ho rispettato! Mi ha anche piaciuto quando faceva il bullo perché poteva permetterselo! C'era il periodo che poteva permetterlo! Certo! Adesso invece ha rotto i coglioni! Dai tornate... Tempo al tempo! Tornate a vedere il baseball! Non hai vinto neanche la... Anche CR7! Tempo al tempo! CR7 è stato uno... Cambio mano! Hai vieni qua che mi sono male! CR7 è stato uno dei giocatori più forti... Sì! ...dell'ultimo periodo calcistico da quando lui aveva vent'anni a quando ne aveva trenta adesso in parabola discendente è in precipizio non rompere i coglioni! Ma sai perché? Perché lui era... Cazzo! Luisa Osorio da Lima che è stato il giocatore più forte di tutti! Il fenomeno vero era il numero 9 di Rio... E' Alessandro Delfiero! Eh sì quel cazzo! Era il fenomeno di Rio de Janeiro no? Sì! Era lui! A che età si è ritirato? Vabbè ha avuto problemi più seri... Lui comunque... ...ginocchio non ginocchio... Eh cazzo! 33 lui ha molato... Lui faceva il doppio allenamento, faceva i massaggi, fisioterapista personale... Tirato perché fisicamente... No poi ti ha imposto e ha imparato a fare... Ha imparato a fare punizioni! Calcia sia a giro che di forza che con la palla sale scende alla pirlo diciamo alla... Però Messi è meglio! Messi è più... È meno costruito! Certo! Però Messi anche lui nonostante che ha vinto un pallone d'oro per me immeritato... Dici? Non meritava Messi! Cosa meritava Messi? Non è... Io Messi ho in mente... Chelsea, Barcellona, Messi che fa i gol... Prende falli, dovevano essere espulsi... I Chelsea di Mourinho io sto intendendo... Quello forte... Quel Barcellona forte... Quello era Messi, questo e adesso non è più Messi... L'altro giorno gol al Valle... Diventano vecchi anche loro... Si però ha fatto un gol partendo... Diventano loro cosa facciamo? Capo Caloniero in Champions... Risponiamo Rummenighe? Risponiamo Gianni Ligna? No però Capo Caloniero in Champions League... Capo Caloniero ha vinto la Liga... Ha vinto la Supercoppa Spagnola... E ha fatto una semi finale dove il Barcellona si è suicidato con il Liverpool... Io non ho... Un portiere nella storia... A chi riavi per l'oro? Un portiere nella storia ha vinto il Palone d'Oro... Che è il russo... Yashin... Yashin l'unico... Io lo avrei dato a Allison... Io grazie... Perché... Per me è l'Allison... Perché Allison è veramente il numero uno in questo momento... Ha vinto la Champions con il Liverpool... Meritatamente l'ha vinta... È il numero uno... Ma a me sì ma lui è il numero uno... Cazzo fai di quelle parate e non c'è tanto... No ma Allison... Volete Buffon tenetevi Buffon... Allison è un po' che... Buffon è un altro... Quanti anni ha... La Roma l'ha venduto male... Buffon è dell'82 giusto? C'ha 41... No aspetta... 41... Ma dai è il 78 Buffon... Buffon è il 78... Ma minchia... Che cazzo fai di Buffon... Vai a casa dai... Te la cara resa che sei fallito... I mobili... E la Zucchi... Minchia dai... No non può circolare... Ho capito che devi giocare per pregare i debiti che sei fallito... Però basta... Nonostante che fai le papere mi è meglio a bene... Ma se li erano liberati mandandolo a Paris Saint Germain... Cazzo... Che ha contribuito a essere eliminato o sbaglio? Le papere che le l'ha fatte lui quando sono usciti il Paris Saint Germain? Minchia si è contribuito... E poi è tornato qua... Non è più Buffon che era Buffon nel 2006... Però Cassano... Diceva che Cazzo... Cassano è onesto... Si è ritirato prima... Se voleva due contratti per due anni gli scroccava ancora... Però lui dice che Cazzo ha fatto un anno a Roma... Uno in panca... Cazzo non è Buffon... Di quando Buffon era il vero Buffon... A me non mi piace... Adesso è superiore a Buffon nettamente Cazzo... Però Alisson è un aereo... Mamma mia... Alisson... L'ho venduto poco... Alisson vale veramente... Anche Sala... Grazie... Alisson... Anche Sala ha fatto... La roba... Ronaldo ha più follower di Real e Barcellona messi insieme... Ronaldo ha 34 anni... Ha più follower... Tra due anni nessuno sa più chi è Ronaldo... Ma non lo so perché Michael Jordan gli ha fatto quel contratto a vita... Cioè Ronaldo... Ronaldo... Michael Jordan si è ritirato... Michael Jordan è stato uno... Il numero uno al mondo del basket... Si deve giocare c'è ancora la sua... Ho capito... Ma lui si è ritirato... Non gioca più a basket... Ronaldo si mette la maglia... Menghi Rotami... Domani... 40 milioni di followers... Ok... Michael Jordan adesso è proprietario dei Washington Wizards... Hai capito... Lui... Da... Da... Cestista è diventato proprietario di una franchise NBA... Quindi... Ha un potenziale... Però non gioca più a basket... Però gli hanno fatto un contatto a vita... Sembra che vogliono fare anche Ronaldo... A vita che cosa? Ha un contatto a vita con la Nike... Ah beh può fare... Comunque Ronaldo... Ieri collo... Ho detto... Io quando l'anno scorso la Juve ho comprato Ronaldo... Che i Gobbi erano in giro... Wow... CR7... Perché non se l'aspettavano... Un po'... Ha preso di sorpresa a tutti... Perché nessuno si aspettava... Non perché andava la Juve... Anche quest'anno... Ma che un Ronaldo... Anche quest'anno hanno preso Guardiola... Non se l'aspettavano... Ma che... Infatti... Ma che un Ronaldo venisse in Serie A... Perché ha sempre dichiarato che... Gli suoi campionati erano... O la Liga o la Premier... Perché lui... C'ha la sole... È finito in Serie A... È finito... È finito la Juve... Io quando l'anno scorso la Juve... Ero contento... Perché ho detto... Cazzo lo avete comprato... CR7... Ok... Sempre lui... Ma che... Quanti anni ha... Ma vi rende come ha reso nel Real Madrid... Nello United... Ma vi rende così... E infatti adesso... E lui si è fatto male... Per fortuna... Ma non recuperi più... Oltretutto è una checca... Perché si sa... Checca scritto C... Punto... H... Punto... Che vuol dire... KK... È una che... Si sa che è una checca... No? Ok? C'ha la fidanzata finta... E fa i cazzi suoi... Ecco... Diciamo che... È talmente... È talmente... Per se stesso... È pieno di se stesso... Che ti tira fuori di quei casini... Vedrai cosa ne succedono quest'anno... Vedrai cosa ne succedono... Però... Rovina lo spogliatore della Juve... Rovina... Comunque questi calciatori qua... Tutti un po'... Adesso ci sono Dybala... E Higuain che sono in forma... Io farei giocare Dybala e Higuain... E Ronaldo in panchina... Ma non possono permettersi... Soprattutto se non quello li fa venire fuori in puttanaio... Lui gioca quando non deve giocare... Ma Sarri a me... Sarri ha provato a farlo... Sarri è andato sulla barca e a dirgli... Tu devi giocare così... Perché se no con me mai problemi... Lui gli ha detto... Ascolti... Io gioco come cazzo voglio... Certo... E fino a un po' le cose sono andate... Quando lui è sceso di forma... Lui dico... Ma non vedi... Sarri l'ha tolto... E lui si è incazzato... E lui ha fatto il muso... Poi è andato in Portogallo... E ha segnato... E ha segnato... Poi però è tornato in Pachina... Unicicolo nazionale da settembre a oggi... Quello di Juven ha fatti meno... Ma vi rendete conto... Sì... Poi è tornato a Bergamo... Non ha giocato... Non ha giocato... Ha giocato con il suo suolo... Ha fatto schifo... Ha fatto... E adesso qualche Juventino... Io sono sicuro... Sono sicuro... Sai Juventini quanto capiscono di calcio? Eh... Zero... Zero... Adesso qualcuno dice... Che Sarri deve tenerlo fuori... Tu capisci... Prima non doveva... Vediamo se lo tiene fuori cosa succede... No però qualche Juventino dice... Caspita in effetti... Se non è in forma... Lui è stato il peggiore... Io ho visto la telecronica... Poi oltretutto... C'è persino... Il rispetto dei telecronisti... Che non vanno contro Ronaldo... Quando veramente... Merita di andargli contro... Perché ha fatto schifo... Il peggiore in campo... Quel Sassuolo... Guarda che... Il peggiore... Stanotte... Oh sbagliava gli stop... Che... Ok... Poi... Da fermo... Come fai a sbagliare uno stop da fermo? E io l'ho vista... 6 CR7... L'ho vista mentre andavo allo... 6 CR7 sbagli che gli stop da fermo... C'è qualcosa che non funziona nel corpo... Sicuramente... Non è messo bene... Le stracche... Non è messo bene fisicamente... Ok... Ma... Le rogne che tirerà fuori questo qua... Quest'anno la Juve sono incredibili... E per quello che... Comincio a credere anch'io nello scudetto... Devo... 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 Comincio a credere nello scudetto... Perché se... Perché devemmo ringraziare il CR7... Che romperà il culo nello scudetto della Juve... E romperà... Sì rognano... Chiellini torna tardi... Meglio... Eh... Loro hanno problemi finanziari... Hanno rimesso dentro soldi... Cambio braccio... Allora... Noi prendiamo... Eh... Ma... Mazzucchi... Non è che magari noi prendiamo il loro posto... Hanno fatto... Eh... Non lo so... Loro... Posso dire una cosa... Noi abbiamo... Ragazzi... Parliamo di due... Io sono Annick... Ramsey... Un fallimento... Non tanto perché non è bravo... Mi piace Ramsey... Ma perché non gioca dove c'è... Rabiot... Una cagata... Uuuu... Di Baleguini volevano vendere... Mazzucchi... Che è uno cato... Il cuore della Juve... Spedito... Spedito... Caccio in culo... Chiellini... Purtroppo... Lì è sfiga... È sfiga... Ma alla sua età... Ma ha fatto la storia... Chiellini... Bonucci... Anche lui... Diciamola... In fase discendente... Per fortuna... I terzini... I terzini... Scusami... Ma tra decidio... A me piace il quadrato... Danilo... L'unico... Il migliore quadrato... I portieri... Ne parlavamo prima... I portieri... Speriamo che ci fanno male Cesni... Voglio dire... Certo... Come sono messi... Sono messi male... È in discesa... Sì sì sì... Nettamente... Ok... Il Napoli è un ciclo finito... Il Napoli è finito... Ecco... Il Napoli... Dobbiamo aprire una parentesi... Il Napoli... Quel ciclo qua è finito... Ciò che è successo a Napoli... Con la storia del ritiro... La fuga... Forse arriva Gattuso... A me... Quello che è successo a Napoli... Non mi va giù... Cioè... Io non rispetto... I calciatori del Napoli... No... Viva della Regi... Mi stanno sui coglioni... Tutti i calciatori dei Napoli... Ma come stanno? Siete tutti dei mercenari... Insigne compreso... Fate schifo... Insigne fa schifo... Voi tutti... Li metterei qua... A lavorare... A schiacciare ferro... Ma come si fa? Fili puttana... Che dopo che hanno fatto... Mi fate dire delle parole... Mi fate dire... No no no... Ma dille... Sto con le lauree... Sì io sto... Ma fate schifo... Ma come cazzo fate? Vergognatevi... Hanno mangiato... Vergognatevi... Li ha fatti crescere... Gli ha dato l'opportunità di... Vergognatevi... Stadio pieno adesso? Caglioni in primis... Ma per piacere dai... Che vero... Io non lo voglio Mertens... Ma via... Via vai in Belgio... Vai nelle miniere di Carbone a lavorare... Sì... Noi vogliamo esposto... Ma che cazzo fate oh... Vergogna... Vergogna... Vergogna quello che è successo a Napoli... E aprite gli occhi... Non seguite i calciatori... Seguite la squadra... Il calciatore è uno stronzo... Il calciatore singolo... Quasi tutti... Da boh... Vabbè c'è sempre la pecora nera... Chi è che abbracceresti all'Inter oggi? Chi abbraccerai all'Inter oggi? I calciatori... Giaver Zanetti... Non ce n'è uno al momento che mi... Skriniar... Ma Skriniar si è comportato bene... Penso che abbia l'interno del cuore... Anche Devrai dai... Anche Andanovic allora... Sì... Non ha mai rotto i coglioni... Beh Andanovic... C'è stato il momento che non faceva il muso... E' roba che ha niente qua... Capitano... Giustamente capitano... Giustamente capitano... Non meritava il numero 9... Il capitano... Lo stronzo che è a Parigi... Parigi... 11 palloni toccati a Madrid... 11 palloni toccati? Reco negativo della storia da Champions... Però... Rinnova... Rinnova con Parigi... E il Ninja Angolani... Ogni partita... No... Ce lo siamo toto dei coglioni... Il numero 9... E' ufficiale... Lo riscattano... 70 in sacoccia... Per fortuna... Non torna più... Abbiamo Lautaro... Abbiamo Lautaro... Abbiamo Lautaro... E il Ninja... 28 punti... Però è facile vincere a Cardi... Cosa ho detto io? Il Ninja... Sai che ti dico... Il Ninja rispetto a Perisic... E rispetto a Icardi... A me è simpatico... Quello che ho sempre detto anch'io... Rispetto a loro due... A me è simpatico il Ninja... Lui è una testa di cazzo... Dico io... No... Lo fa lo stesso... L'altra sera a Cagliari... Lo fa a Cagliari... Ma l'Inter non puoi farlo... Cazzo sei all'Inter... Però l'altro giorno... Però lui... Nel suo essere vero... Ha della positività... Il problema è che Conte... Il problema sono le bugie di Nengolain... Che dice che ha deciso l'Inter... Non è vero... Conte gli ha detto... Io ti voglio... Se tu fai questa vita qua... Anche perché... Io mi ci avevo detto... Guarda... Io se gli avevo detto... Ascolta una cosa Ninja... A me non interessa... Tu sei stipendiato... Hai casa tua... Però tu... Intanto dormi qua... Visto che Spare ti diceva... Adesso dormi con me... Primo... Con me e con Pintos... Secondo... Queste sono le sedute... Poi la sera... Vai a discoteca... Vediamo se la terza sera... Che vai a discoteca... Acquari... Certo... E riesci a fare... Se non fai le sedute... Stipendi... Fuori... Via stipendio... No no... Non solo stipendio... No mi dai tu i soldi... Certo... Perché tu mi dai tu i soldi... Io faccio un'assicurazione... Visto che tu dici... Io posso fare questa vita... Io firmo con te... Dico va bene... Tu sei qua... Se... Non ce la fai a fare... Beh... Mi dai tu i soldi... Dove ne te ne ti do io... Mi dai tu... Mi dai tu... 5 mila all'anno... Tu sei una perdita... Certo... Quindi andava a fare una scommessa... Con gente così... Perché ogni calciatore... Ma lui accettava di darti i soldi... Ma mai... Se lo accettava... Allora era lui... Che doveva ammettere... Sono io che... Sono io che non accetto di fare una certa vita... Vado a Cagliari... Perché la faccio lì... Perché io... Capito... Perché... Allora comunque ascolta... C'è fuori anche Gagliardini... Giocheremo... Borca... Vessino... Eh... Brozo... Per... Per... Una... Due... Brozo... Quattro partite... Brozo... Ha in mano l'Inter... Brozo... Sì ma ragazzi... E sta girando... Giocheremo con Candreva interno... Siamo cittura pista... Schignac... Non lo so come saremo... Siamo rientra... Perché è un po' che fuori... È un po' che fuori... Ma Gagliardini è fuori fino a gennaio... No scusa... È fuori Barcellona e Roma... Non che ci manchi... No no... Beh... Gagliardini... Però ragazzi... Cioè... Qualcuno dirà la preparazione di Conte... Ma non è vero... Si fanno male ovunque i calciatori... Non è quello... Si fanno male ovunque i calciatori... Poi molti sono traumatici... Poi se la preparazione di Conte... Ti porta ad essere primo a 37 punti... Benvenga la preparazione di Conte... Certo... Beh... Ma poi scusa... Anche Nainggolano ha detto che sta meglio... Perché ha fatto una... Oh Nainggolano ha fatto tre settimane con noi... Non l'ha mai fatta in vita sua... Gli è servita che... No beh... Rientro a Nainggolano impensabile... No no no... No... Anche perché comunque nel gruppo... Sai cos'è? Continua... Arriva De Paul... Arriva De Paul... E... Kulusevski... Mi piace... Minca... A me piace... Qualcuno mi fa... Quando io ho detto che Sensi sembrava Iniesta... Mi ha preso per il culo... Mi piace tanto Kulusevski... Adesso dico che Kulusevski assomiglia nel ripartire... C'ha la gamba... C'ha la gamba... C'ha la gamba... C'ha la gamba... Sembra il primo Zidano... Ma Kulusevski va da noi o va a Torino? Va da noi... No Kulusevski va da noi... È come il discorso di Bastoni... Se noi siamo... L'Atalanta ha perso un po' di terreno con la Juve... Mentre Suning con Percassi per la storia dei centri commerciali... Speriamo... Capito... Io vi dico... Ma poi l'ha detto... Mai... Torniamo alla domanda principale della vita... Mai il Milan... Punto di domanda... Io ho visto un po' di tempo fa sulla gazzetta di Gazzidis... Che ha dichiarato... Allora arriva Arnò quello di... Gazzidis ha dichiarato... E... Va letta anche sotto le righe questa cosa... In dieci anni... Da oggi... Quindi... Pochi... 2029... Riporterò il Milan... Riporteremo il Milan... In Serie B... Quello domani... Riporteremo il Milan dove era prima... Dove merita di essere... Se Gazzidis ha detto dieci anni... Vuol dire che ce ne vogliono almeno quindici... Sì sì... Come noi... Perché ovviamente non ha... Ha sparato alto... Perché se sei un milanista... Dici cazzo... Dieci anni qua... Devo stare... Sono morto io... Certo... Quindi ce ne vorranno quindici... Se poi succedono altre cose... Ce ne vorranno anche venti... Ma quindi... Ma il Milan... Punto... Ma vogliamo parlare di sto Milan... Te lo dico io... Vogliamo parlare del Milan... L'articolo di Arnold... Io voglio sapere... Il capo di Louis Vuitton... Voglio che in televisione... Il capo di Louis Vuitton... Qualcuno dica... No... Il Milan... Non sarà mai più... Il Milan... Nei prossimi vent'anni... Il Milan che è stato... Nell'era Berlusconi... Certo... Ditelo per favore... No perché il capo di Louis Vuitton ha detto... Se io prendo il Milan come vorrei... Porto il più grande calcetore al mondo... E il più grande natore... Domani... E l'intervistatore gli dice... Allora porti Gualdele Messi... E lui sorride... Sì ma... Che Louis Vuitton sta a casa sua... Non va al Milan Louis Vuitton... Dai... Non compra il Milan... Il Milan ha un bel bread però... Il Milan ha un bel bread... Beh cazzo ha fatto la storia... Ha fatto la storia... Ma mai... Ma quando ha fatto la storia... L'ultima coppa che non ha la vita... Ma perché non lo compra... Ma il Milan... Ma il Milan chi lo compra... Io voglio sapere... Poi io incontro i miei amici milanisti... Gente che conosco... Dico ma va al Milan... Non lo fanno così... Non vogliono parlare... Non vogliono parlare... No su quello sono più bravi... Non vogliono parlare... Io gli domando... Ma il Milan... Spiegami tu che sei milanista... Ma il Milan... Punto di domanda... Non mi rispondono... Eh... Non... Io... Sai cos'è? Io impazzisco... E sono due o tre anni... Che cominciò a fare la domanda... Ma il Milan... Non ho risposte... Loro hanno fatto... Adesso è diventato un fenomeno... Teo Hernandez... Un fenomeno... Ci servirebbe a noi? Assolutamente no... Perché la gente ti dice... Ternani cosa ci manca? Non so... Perché ha fatto mezzo gol... Poi dopo fa la fine di... Pum pum pum... Che facevano... Non lo so... Il coro lo facciamo noi... Sì lo facciamo noi... Oh... Pionte... Pum pum pum... L'abbiamo fatto noi al bene... Noi lo facciamo... Pionte... Pum pum pum... E no... È nostro... Come quando cantavamo... Nelson... Nelson... Son di da... Sì... La vera Milano siamo noi... Ricordatelo sempre... Noi siamo i Bauscia... Voi no... Vive i Bauscia... I CaixaVit... Che usiamo per le viti... Ma lo leggevo... L'altro giorno ero all'arena... E... Siccome io ho detto una roba... Mia mamma ha detto... No Napoleone... Io ho detto no... Guarda che il periodo è... Ha la ragione lei... Ah... E... Mi sono letto un po' di roba... Poi il Milan che gioca... Perché San Siro lontano... Giocava lì... Perché poi lì... Perché... Perché andare a San Siro... Ci voleva il tram... E il tram non arrivava a San Siro... E quindi loro non potevano giocare a San Siro... Quasi neanche adesso arriva a San Siro il tram... Eh... Non potevano andare a San Siro loro... Perché non avevano la macchina... Perché loro sono in CaixaVit... In CaixaVit... CaixaVit... Un saluto a tutti... Viva il calcio... Ma soprattutto... Tomai Mila è un punto di domanda... È un punto di domanda... È un punto di domanda... Però noi vogliamo rispondere... Eh... Io voglio le risposte... Noi le rispondo io... Eh... E CR7 è un punto di domanda... CR7 è quel... È il... È il cavallo di Troia... Non lo spogliatore della Juve... Noi dobbiamo ringraziare CR7... Quest'anno... Se vinceremo lo scudetto... È merito di CR7... Uh... Grande... Non lo fa più... Non fa neanche più quello... Allora... Ti faccio domanda... Ma quella bombola del gas... Sì... Dove la metteresti? Nello spogliatore del Napoli... Ah... Ciao a tutti... Ciao... Ciao... Ah... Ah...